Soluzione, raga, per Marvesna... per... per RP Cioè, anche Chiruccia l'ha vissuta in prima persona con me Cioè, io capisco che ho creato parecchi disagi e... e casini Ma è quello il mio proprio... il mio personaggio, eh Che crea casini Allora... Allora, vediamo un po' oggi che ci abbiamo Allora, oggi ci abbiamo Gioco delle carte, pesca delle carte, gioco delle carte di costo 3 Sì, 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 io voglio Ma anche cose serie, noia e morte, è uguale, stessa roba Allora, non mi sento nulla e morte, non mi sento nulla e morte... Cioè, è infatti che non si può fare Per Annora, non mi sento nulla e morte, non mi sento nulla e morte... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Che fa? E' una madonna se concede. Madre de Dio! Madre de Dio! Astro nero Allora, fammi un po' vedere Astro nero, fammi un po' cercare astro nero qua Ce l'ho anche io Le secrezioni, dici? Astro Come si chiama astro nero? Ma scusami, astro nero che cazzo è? Ah, cool obsidian Dici? No dai, su, ma te batto 10.000 a zero Allora, comunque Wanted Carte a costo 3, ce ne abbiamo Una, due Boh, va bene questa No, questa non mi piace Vabbè dai Dai me come te chiami Battaglia Mi devi dire il tuo coso qui Basta che ti sbrighi perché c'ho C'ho altre cose da fare Cioè devo fare queste perché altrimenti non me le accetta le queste Se no mi si fai tardi come ieri Le 5, le 6 Poi da domani Vengo tardi, capito? Quello è il fatto Ah, il gioco Allora Io, io dai Unisciti 58 64 6 Anzi no, scusa Spero Dove sta? Questo Andiamo Mi tocca fargli il culo Non ho capito Dai, qua si vince sicuro, raga Facile, easy Ma Negri Ruccia Ok Hai Quello Scenario Quindi c'ha Hulk Sciulca Ma io che c'ho qua Tranquilla Tranquilla No, 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 no Sto a pensare No Ok, gioca questo, questo Ok, tranquillo Ok Non so se funziona E dai Allora Lei, allora Non ha scontato un cazzo Hai evoluzionario Non può metterlo Non lo so Vabbè, lei te tacchi al cazzo Ok E cosa so se me basta C'è chi che me basta GG 2, 4, 17, 13, 26 Ok, se metteva Iron Man al centro vinceva Però vincevo Anzi, vincevo pure se lo mettevo a destra Se facevo sta giocata pure a destra Vincevo Ok Lucornetto A chi? No, no, però hai giocato bene Mi stavi quasi per far culo Quasi Quasi Che cazzo è Ma chi è che sto a parla Ok Ok Minchia E non ci abbiamo Ma tu ma cazzo Ok Ok Allora, qua mi distrugge la roba Qua Eh, non so se vengo onestamente Quindi, mo mi aspetta un attimo Eh, dipende da quello che cazzo pesco Ma che cazzo è Google È un campo È un campo, Dio Oh, snap Ok Ok Vediamo un po' che cazzo gioca Ciao Hulk Hulk Potrebbe essere forte Sì, però Ciao Ciao Kirucha Ciao Kirucha Eh, mi spiace Eh, mi spiace Kirucha Mi spiace È troppo forte Geno Che te devo dire Kirucha Lampadina Allora, se volete organizziamo un torneo Un torneo The Marvel Snap Dei fan Se proprio volete Un bello torneo Pulco Mamma mia Dio Ma che cazzo stai a di Ma nemmeno se cala la madonna Siamo partiti malissimo Comunque Drop a 6 Drop a 4 Drop a 4 Drop a 5 Siamo partiti malissimo Ok Ok Eh, Dio A che stanza devo creare Poi questa costa 2 Ma questo concede Te lo dico io Grazie a tutti Boh, li mettiamo tutti qua sotto Ok se mette due carte qua sto nella merda però potrebbe fa tutto ok ok mi fai un cazzo porco dio ok dai gg gg voleva vincere sto stronzo 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 ok vai vai devo vincere 4 partite 4 sembra di buttare 5 per le carte insomma io consiglio sempre di buttare c'è non capisco io consiglio sempre di buttare 5-6.000 euro per le carte su marvel no no ma che 5-6.000 io ci avrò buttato boh 1.000 euro 1.200 1.2002 1.2002 boh minchia ha la capita eh come faccio con com'era qua la sinfonia l'ha capita l'ha capita c'è cazzo doppio doppio 1-6 lì 6-12 io mettevo le troppe a 1 come se non ci fosse un domani mettevo zappu 3 zappu lì porca anzi 4 zappu lì porca troia poi ti faccio vedere vediamo un po' oddio vabbè ci ho provato vabbè quello c'è dio qua vabbè ci ho provato vabbè ci ho provato oh snap tanto questo mo concede sicuro ma oh cazzo sicuro eh una madonna per forza che concede non c'è un cazzo pesca 25 carte ok questa l'ho fatta gioco a delle carte costo 5 io non ce l'ho costa e costo 5 o forse una ce l'ho non lo so ciao torino buonanotte ok su whatsapp eh quando c'ho tempo di scrive su whatsapp un po' un po' dica sì 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 Grazie a me, allora. Vabbè, Whatsapp. Bastardo! Vabbè, sti cazzi. Questa mi piace. Ok. 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 O第6. Voilà. Ok. No, non so scarso ragazzi non so scarso non so scarso Allora metto dentro questa, poi ci metto dentro questa qua che gli eleva la cosa che pesca Così almeno porca puttana si eleva dal cazzo questo Uh, questa è buona qua eh Ok Divendo un 12 porca puttana Ok Bello Ok 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 Ci metto Agnilus qui Così almeno sposta da là E che non c'ho tempo ragazzi Non c'ho tempo E che non c'ho tempo Come fa un dark over Vabbè io ci mettevo un full obsidian tipo Non potevo mai perde Come facevo a perde qua Ok Abbiamo fatto tutte le missioni Ok queste le abbiamo fatte Gioca delle carte, costo 3 e vinci il campo con una carta sola Beh qua c'ho il campo proprio perfetto Bello cable Bello pure questo Vabbè qua c'ho la cosa perfetto Qui Dove sta? Destroy Destroy C'abbiamo 2 carte 2-3 carte Costo 3 Belle precise Allora che mazzo ti consiglio per iniziare? Dipende che livello collezione sei Ti consiglio di scaricare questo programma qua Che si chiama Un tapped Con un tapped tu praticamente carichi la collezione tua all'interno del sito E te consiglia Qua c'è scritto All wanted Oppure che te ne manca una Così almeno fai lo switch E te consiglia pure Qua c'è la possibilità di mettere pull 1 Dal livello 18 al 2-21 Tutti i deck che hanno maggior Per maggior rate E tutto Cioè il miglior modo è quello Non conosco altro modo purtroppo E io E io Ok 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 Sei ritirato Va bene Però almeno me l'ha contata come carta Giocata Spero quella C'è Ok Devo solo fare Due carte Devo giocare a questo 3 No Delle cose al lato niente Dal sito Tu dal sito qua praticamente Vedi le carte tue qui In wanted per esempio Fai Fai wanted E qua ti dice il livello Vabbè qua Perché il livello collezione è basso Però per esempio se tu metti già questo qui Ti dice il rate 57% 75% per esempio Ecco un mazzo per esempio questo qui Se sei proprio all'inizio Inizio Inizio Questo mazzo qui dicono che sia il più forte questo Se stai all'inizio Inizio 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 Grazie a tutti Metto sta roba qua Poi faccio Venom Ti dice così il sito? Povera Chiruccia Povera Chiruccia Povera Chiruccia Povera Chiruccia Ok noi andiamo così facciamo questa roba Lui fa misti, armor, magic potrebbe avere... Ok adesso lui fa tipo... Lui fa tipo il coso qui Però noi non possiamo distruggirlo in nessun modo Lui fa tipo il pisellone qua Però se fa l'infinauta qua Alla fine non è male come cosa Che dopo metto aliot Devo solo Indovinare dove metterlo aliot O al centro o a destra Ok Vediamo dove cazzo fa l'infinauta L'infinauta può farlo Sia a sinistra ma pure al centro Non è detto Eccola là Ok 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 Giochi al centro il pezzo dei cinque Mi sposta il coso di là Ma a prescindere non riesce a... No riesce Se lo giochi al centro ok Ciao bello E non lo so eh Ho vinto io Che buscio di culo Mio dio Eh questo è proprio a culo eh Vabbè gli abbiamo fatto un bello sedere a questo Questo qua ha fatto alto F4 Te lo dico io 200 crediti proprio belli Precisi Perfetti Vado sulla collezione Ci andiamo Andiamo a livella Ah non ci abbiamo le pietre Vediamo un po' Eh saspot qua ce l'abbiamo Per favore Infinity Più 28 addirittura Oh una bella chiave questa mi piace Guarda qua Bello 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 A me a me a me Qua qua una bella chiave Così almeno Domani apriamo No dopo domani Dopo domani Apriamo pure le casse Belle precise Ok Ok Ciao a tutti Ma non lo so se spenderli Sti 10 euro, non lo so Non è che mi piace tanto 850 crediti per 10 euro Che li posso fare tranquillamente in due giorni Non lo so Allora Voglio vedere se esiste tipo un sito per fare i tornei Un bel torneo De marve snap Oh, scusate Bella mattina Ciao Mi senti? Ah, non mi sente Non mi sente, non mi sente Aspetta Speriamo che va a destra Buono L'altro carnage Si vede un po' laggante L'altro carnage per i cazzi suoi Ovviamente Venom Ciao 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 Bella Matte Bello Forse si No, io aspetto Forse Killmonger Doppio Si Per fare poi al prossimo Eventualmente Come stai? Matte? Ti sento un po' disturbato Di sottofondo Del microfono Ah, ok, 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 ok Sì, è vero Beh Ma sei sicuro? No, mo' si sento bene Mo' ti sento bene Ma senti un po', ma esiste un sito dove poter fare tornei con i fan? Cioè proprio dove organizzo io li organizzo Sì, ti devi mettere d'accordo con uno che streama Che poi lo puoi contattare pure su Telegram Che si chiama Riordan Che è quello di Ready Check Dove organizzano i tornei Quelli là per i sub Pure Atrix Il coach E' tutto Nel senso Quel tizio là Come si chiama? Riordan Con la Y Riordan E' quello là tipo Stream, Malve e Snap Comunque gestisce i tornei della piattaforma di Ready Check Se tu vuoi sponsorizzare un tuo torneo Lo puoi fare là sopra Puoi mettere pure dei premi In denaro Tipo 100 euro 50 euro Perché sono abilitati a farlo Ma sono io che devo cacciare i soldi o loro? Eh non lo so Perché io non mi sono mai messo a organizzare un torneo per i miei follower Per i miei sub Quindi comunque Coach Crono lo sa sicuro Gli lo posso chiedere domani Molto probabile di ricaccio a te Sì, molto probabile di ricaccio a te Considerato che è multiverse Quello che hanno fatto Con la seconde Nel proprio I soldi ci hanno messi Quelli di Seasports Ready Check Ne stiamo sempre giocando a Marvel Snap Poi sto streamando spesso Così ormai sto streamando quasi 4-5 giorni 5 giorni su 7 Se vogliamo Quindi comunque Ho trovato continuità Quindi fai pure più numeri E poi invece Marvel Snap Stanno uscendo tanti tornei Tante cose Quindi Sono sempre concentrato su sto gioco Come mi avevi detto tu all'inizio Che avevi detto No ma streama solo un gioco Non Poi dopo che comunque ti fai il tuo pubblico Puoi streamare Che cazzo vuoi Tipo Just Chatting Altri giochi nuovi quando escono E io le vedevo Perché facevi tipo Diablo Mi ricordo Vabbè Quando escono Perché era appena uscito Mò invece faccio sempre Sui 150-160 160 di media Non so se hai visto Sì Sì Ma poi se sei forte su un gioco Te seguono a prescinde Svece ma che sta uscendo il competitor Di sto gioco Sì sì A voglia Prodai me fa piacere Dai che te sta andando bene le cose Dai Eh sì Ma quando ti impegni Fai le cose professionali Così eh Quindi comunque Qua ci salva solo un top Aspetta che vengono 10 mano Eh beh 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 Fai anche il Deadpool di Radboco Il più classico Aspetta Sto pensando No fai un'altra cosa Più bella Vai indietro Fai Grandmaster Sinistra Ho paura Fallo Fallo Knull centro E Deadpool centro Anche io volevo Fai una roba del genere Hai paura? Vediamo che Non c'è Non c'è un po' di paura Vi hai mai mangiato in diagonale? Quello sono Dead e Knull Era l'unico modo che avevamo per vincere Perché se no stava sopra Con la sua Dead Madonna La Goduria si chiama questa cosa La Goduria Hai visto? 210 160 Perché? Se perdeva senza quella roba lì? Sì Se non mettevi Venom al centro Lo perdevi Sinistra della centro Porca troia E come facesse Bello? Che gli era rimasta detta in mano a zero Non l'aveva ancora giocata Noi sì Perché l'avevamo fatta insieme a Venom E ha rimasta sicura in mano detta Che l'avrebbe fatta insieme a Knull Per farsene doppie entrambe Sarebbero andate sicura Sinistra e destra Tutte e due Un non rancato Sarà il pollo da otto? Io sono a 50 snap points Che devo guadagnare E sono top 1 al mondo Domani ci provo Mattè Madonna Quante te ne mancano? 50 snap points Devo vincere due partite da otto cubi E una da quattro Impossibile Qui è snap? Qui è snap Sì è snap Però non lo fare lì Forge Fallo tipo al centro o a destra In un campo che può diventare hot location Tipo Ci fidiamo a destra? Fidiamoci Tanto comunque abbiamo Carnegie Pure Niko se ci dà lo spacco pesco 2 Quindi Forge non si fa mai a sinistra? No perché mo' dalle otto C'è la hot location C'è una location C'è una location A questo punto facciamo Deadpool Death Buonasera Oddio La vasca di clonazione si chiama sto campo Che esce più su questo Ciao ragazzi buonasera Buonasera a tutti Chi è? Fai carnage Io farei questa cosa Niko testa Sono uscita delle missioni Hai snappato tu no? Sì Le missioni serfinali Sono uscita solo X23 Avrei snappato altre 20 volte se potete Ah è la live Oddio C'è la live attiva Sfondo Comunque dopo lo contatto che ragazzo l'ha Sì No è abbastanza professionale Lui è organizzato Che sto vedendo? Cosa sto vedendo? No Ho perso di merda No va bene Va bene Abbiamo fatto le nostre porcate Vabbè qua Deadpool Vabbè qua caso Sì Passa Come perdiamo? A destra una carta e vinciamo comunque Lo so Quindi mi chiedo come perdiamo? Hai snappato tu no? Sì Dice se potevo snappavo altre 10 volte Sì E qua la play è una sola E' meglio ancora Fai Deadpool centro X23 centro Tu Killmonger Volevo fare killmonger destra E' meglio killmonger destra Hai ragione Volevo fare grandmaster sul carnage Per spostare la power al centro Però alla fine rampiamo Facciamo nulla Deadpool da 24 Sì è meglio killmonger E cazzo deve andare questo Sì passa Sempre vinta così Lui non può giocare su Ebonymon Ah no Azzzo Bella play Bella cosa Killmonger X23 ciclob al 100% Il regolare Una 24 in mano Giusto così A un mano Ecco Ci diamo la meccanica Qua Knull C'è un modo In malato In cui la perdiamo Boh Squared girl Vince destra Come squared girl Ma che cazzo di carte stai nominando Ah beh lui è un kazoo Cioè c'ha Antman Cioè armor Sempre vinta Fai Venom destra Venom destra Per sicurezza ancora fa le tigri Ebbè abbiamo la spiga Che la tigre da otto Va proprio a destra E fa bene Poi fai Death Deadpool Tutti e due sinistra Tutti e due sinistra Tutti e due sinistra Va bene Lui farà un slot sinistra Vabbè Abbiamo sempre vinto Vai No lui non c'ha mai aglio Toglieva un pull 1 Pull 2 Sì Vai Il pollo da Pure non arrancato Peccato che non contro Snampa Maledizione Vai Questo fa un slot sinistra Guarda Mi gioco quello che vuoi Passa passa Questa da mochi ha passato Una casca Ah Ah Non c'è Non c'è Non c'è Che pezzo Madonna Sei molto Sospetta Estremamente Sospetta Lui voleva vincere Quasi Non è buono Non poter più giocare Caste Ma questo è un botte Sembra un botte Molto sospetto L'avatar Tra poco vincevamo col turno passo Sì vincevamo col turno passo Un altro po' Basta che avevamo tre punti a sinistra E col turno passo vincevamo Madonna ancora 2.64 Ci vuole così tanto per arrancato Sì questo è il profilo di Nuku Day Io ho finito di giocare Ho fatto 100 e passo snap points Sono arrivato a 9.500 Il primo ne ha 9.540 Ne ha pochi in più di me Madonna Solo che ho giocato molto Oggi mo sono ottavo o nono Molto quanto Per curiosità Ho fatto 80 partite 80 Beh 80 dai Non so tantissime Eh 4-5 ore Tanta partite L'ho fatto di tutte le modi Tipo a mezzanotte Avrò iniziato a giocare Solo sì 4 ore avrò giocato 4 ore e mezza Poi a volte gioco pure di pomeriggio Gioco pure di mattina Perché abbiamo giocato D'accordo Eh perché c'è baschio di clonazione Siamo sicuri? No No non siamo Qualsanto sicuri Ok è una brutta mano X-20 X-23 Ma forse è vero Brex1 Ma che abbiamo le carte Uno Fai Brex1 Sinistra No sinistra Sinistra Sennò ti va Sì 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 è il Bifrost Che mano di merda Comunque Stava pensando lui Ozzo Brex1 Vai fai carne Ok questa Sì È da snap forse Vediamo Mi sembra un mazzo molto povero il suo Estremamente Ovviamente destra Ci vuole Azzzoo E quante cazzo di gemme E quante cazzo di gemme C'ha questo Che le vuole fare Non è finita Qualcuno si sta per rogare No non ho capito che cazzo ha fatto l'opponent Niente snappiamolo a questo pagliaccio Venom Buona Buona È da snap Allora sì È da snap Facendo Con un sinistra Ah però lui si può spostare una carta a sinistra Eh sì Noi tanto chiudiamo di venom grandmaster Sai quanti punti No non possiamo Vabbè facciamo Venom e lo superbassiamo Non potremmo fare anche Shang-C Qualcos'altro Pazzo Ma che cosa ha fatto questo Qualcuno l'apriva? È questo È Shang-C in mezzo No Questa è la call degli dei Fa paura Questa è la call degli dei Shang-C Sinistra Grandmaster Sì è arrivato quel momento È arrivato quel momento Io ho vinto due volte Ho visto Grandmaster Soltanto per questo Vai È arrivato quel momento Segui la token per questa cosa Ah Pazzo Abbiamo vinto lo stesso Lui Attacca E dire Guarda sto coglione Ha missato Shang No Pam E si baffano E si baffano Minchia Quattro cubi Sto pagliaccio Ma come fa a essere così bravo Gui Eh Giochiamo un casino comunque Poi gioco sempre Tutti i giorni Pure con player Più forti di me Quindi comunque A giocare tutti i giorni Con persone brave Poi migliori Anche tu Eh beh Tutti i giorni Lo stesso Lo stesso gioco È normale Si gioco col dottor Geo Che secondo me È anche più forte di me Giovo con Urban Poggi Bonsi Che sono due altri ragazzi italiani Che fanno sempre top 10 Top 5 Top 1 Nel senso Quindi comunque Atrix quando fa Di solito Atrix Mosta in top 50 Sto andando bene Sto mese Ah Quando in Nord America Regala soddisfazione Che cosa In Nord America Regala soddisfazione Comunque Sì Lui gioca nel server americano Però dove sono molto più scarsi Come era su Ersan Che erano più scarsi In server americano Prevedo un carnage Molto povero A sinistra Qui Estremamente Molto povero Carnage Vai Che cazzo vi fa Almeno spacchiamo dal prossimo E poi mai Giova Un di sto mondo di mojo È hot location Cioè Due ne hai Di hot location Dacci un drop a uno Almeno Pe 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 Vabbè A forge Garnage Eh sì Cazzo lo dobbiamo fare Peschiamo Andiamo a 6 Sì sì Una paresi alla mano Ciao Questo campo è molto buono Per il destroy Ecco perché stiamo usando il destroy Perché tu ti copri le cose Che distruggono all'infinito Venom per favore Un fenomeno Un fenomeno Snappalo per favore Snappalo Snappalo Nico Si raddoppia No Che schifo Allora Fai forge Centro Se no Non peschiamo Carnage Carnage Sinistra No Aspetta 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 Eh ti dico Aspetta La mano veloce Eh dai Hai rotto il cazzo Con sto passo Manco si tieni a casa I ladri Che devi fare veloce Perché era molto più forte Fare prima grandmaster Sull'altro carnage E poi fare carnage No no Per portare pure Detta a cosa Zero Che mo' non ci possiamo copiare No non fai Due No aspetta No non serve Quello Sei mana Fai Detta Sinistra E poi E poi fai Nico Centro Carnage No al centro Carnage Al centro Che si sposta a destra Sì Passa Appendix 23 Vabbè Detta a zero Detta Non è uno spot Bellissimo Bisogna dirlo 8 cubi Sento il cuore Già che è un po' Dice Sto pensando Che quello C'ha Solo sei rasettata Quindi ti può fare Scheng a sinistra 17 mano Scheng a sinistra E va a 17 Sì Vabbè Io mi muto un attimo Arrivo subito Gui Io sto a vedere Vabbè Quando vuoi Non c'è problema Non distruggi Ma Sto spostando Carre Ma che vuol dire Che mi hanno dissato Black Philips Ma che vuol dire Che mi hanno dissato Su Youtube Dove E dove E dove